allora ciao a tutti ben tornati naturalmente vediamo se si vede no forse quando dovrebbe vedersi adesso ecco dovessi riuscire a vederlo adesso come vedete o dei segni verdi luminosi attorno al corpo questo perché ho trovato un questo scudo uno scudo che ho trovato nel giardino radice oscura e che ha un grandissimo potere secondo me che è quello di permettere il ripristino della barra della stamina molto molto rapidamente questo per me è molto utile perché muovendomi molto rapidamente quindi facendo molte capriolo usando molto la stamina ma insomma è utile poi in genere credo a quasi tutti i giocatori di dark souls indipendentemente dalla strategia che usano per giocare perché appunto permette di recuperarla molto molto più velocemente adesso qua dopo aver sbagliato strada due volte come avete visto perché andiamo allora qua siamo sull'ascensore mi butto giù di qua perché volevo andare a prendere la chiave per il rifugio dei non morti questo perché adesso vedrò se andarci prima di raggiungere la città infame oppure dopo adesso vediamo oggi comunque non riesco a fare nell'una nell'altra cosa però mi faceva piacere farvi vedere questo e appunto volevo andare a prendere questa chiave perché questa chiave qua che ho letto su internet perché di solito come sapete cerco di informarmi anche un po' per non arrivare impreparato ecco dovrebbe essere quella lì e perché ci servirà appunto poi per tornare indietro una volta che saremo arrivati fin là per andare fin là ecco tra l'altro quella abbiamo trovata appunto come avete visto per andare fin là è necessario rannicchiarsi nel nel nido del corvo aspettare un pochino e poi dovrebbe partire un filmato e il corvo appunto dovrebbe poi portarci di nuovo al rifugio dei non morti e quindi adesso ho preso questa chiave però prima di salutarci volevo ecco appunto andare là dove c'è il piromante perché che è quello che se vi ricordate abbiamo liberato nelle profondità e allora adesso qua vediamo un po' si qua ci dice un po' di cose però vediamo se riusciamo a velocizzare un pochino il tutto perché ti occorrono soltanto dei materiali ah no però vabbè diciamoli di sì no come beh peccato ho voluto fare più in fretta ma mi sono perso metà della domanda praticamente quindi no devo tornare e parlargli di nuovo e sperare che 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 mi permetta di cambiare idea vediamo un pochino come rispondi sì cambio idea vediamo un po' quello che che mi dice fiamma della piromanzia fantastica questa è veramente fantastica bene 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 e vediamo un po' se acquisto oggetto vediamo acqua parecchie parecchie magie però vi non ho nessuna anima per acquistarle quindi mi sa che dovrò andare fare un po' di scorta di anime magari col col solito trucchetto delle delle anime quello del drago rosso così faccio anche prima però prima di andare tra l'altro poi appunto lo farò senza annoiarvi facendovi vedere la sequenza ripetuta volevo vedere ecco qua ho una questa magia silenzio che non so dove ho preso perché l'ho vista adesso però mi sembra di ricordare che avessi preso una roba del genere però non so ecco esatto benissimo non posso neanche equipaggiarla vabbè e poi è quello ci penseremo dopo facciamo così adesso ci salutiamo poi io andrò a recuperare un po' di anime ci vediamo poi nel prossimo video per acquistare qualche magia a questo punto ciao a tutti